Ciao, sono Cesare, ci troviamo all'interno di CicliRotula, una nuova società che è nata a Saronno che si occupa di biciclette, del mondo delle biciclette e soprattutto delle biciclette da riciclo. Ci occupiamo delle sistemazioni, riparazioni e il riciclo delle biciclette, quindi il riciclo di vecchie biciclette da rimettere a nuovo. Riverniciare, rimettere dei pezzi, pulire, insomma tutto questo mondo. Il mondo anche del nuovo, quindi fare biciclette nuove, biciclette da uomo, da donna, da cicloturismo, da pista, da corsa, insomma ci occupiamo di tutto il mondo della bicicletta. Oggi siamo qua perché presentiamo una mostra, infatti il nostro spazio vuole anche essere uno spazio per creare delle mostre che ruotino il più possibile intorno al mondo della bicicletta. Infatti quest'oggi Marco Gorla ci presenterà la sua mostra Brooks Brother, la chiamata, proprio legata alle selle Brooks. Le selle Brooks sono un oggetto cult, come lo chiama lui, sono selle in cuoio, in pelle, che hanno fatto la storia. Insomma, ci presenta questa serie di foto perché lui è appassionato appunto delle due ruote e di queste selle, è andato a fare un viaggio a Copenhagen. Un viaggio a Copenhagen che è la città dove insomma ci sono un sacco di biciclette e come scrive lui si rischia di essere investiti più da una bicicletta che da una macchina. E' andato a fare questo viaggio e ha riportato il suo reportage di foto che possiamo vedere all'interno del nostro spazio. La bici che stiamo vedendo adesso è una bici di riciclo, è un restauro che abbiamo fatto da una vecchia bicicletta che abbiamo trovato, abbiamo comperato, abbiamo tolto tutti i pezzi, fatto sverniciare il telaio tramite la sabbiatura, quindi un procedimento che con della sabbia toglie la vernice, riverniciata a polvere e rimontati tutti i pezzi suoi che aveva originali, solo puliti con olio di gomito, petrolio, olio di gomito e un pennello, puliti e rimontati sopra. Noi nella nostra officina ci occupiamo principalmente di queste cose, quindi di fare dei restauri da vecchie biciclette, riprendere tutti i pezzi non danneggiati che ci sono e rifare da zero delle biciclette che come vedete possono diventare molto carine, molto belle. La bicicletta che vedete adesso è una bicicletta nuova che abbiamo assemblato prendendo tutti i componenti e assemblandoli uno per uno da scelta da catalogo. È una bicicletta che abbiamo adattato per fare cicloturismo, quindi per fare dei viaggi, infatti abbiamo messo anche supporto per mettere eventuali borse, una guarnitura robusta e dei rapporti che permettono di andare sia in montagna, sia per strada, sia in pezzi semisterrati. La postura è comoda e non è da corsa, anche se il telaio è da corsa superleggero, è un telaio nuovo saldato a Mugio in Italia. Le biciclette che presentiamo come nuove sono personalizzabili in tutti i loro componenti, infatti tramite catalogo si possono scegliere tutti i vari componenti da mettere sopra per ogni necessità del ciclista. Quella che presentiamo qua è solo per far vedere come potrebbe diventare una bicicletta. La nostra officina si occupa anche di piccole e grandi riparazioni di tutti i giorni, come forature, cambi di copertoni, cambi di camere d'aria e tutto quello che si può rompere giornalmente in una bicicletta. Ci troviamo in via Guaragna, noi siamo cicli Rotula, siamo aperti dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 19 e 30, dal martedì al sabato.